Benvenuti su Gossip Mania TV. Alfonso Signorini meravigliato dai messaggi aerei per i concorrenti del GF, ma state scherzando? Prima di proseguire, se vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità, ti chiediamo gentilmente di iscriverti al canale ed attivare la campanellina. Grazie. Durante la notte, Anita e Alessio hanno avuto la loro prima discussione, scaturita da una battuta scherzosa fatta dalla ragazza che non è stata ben accolta dall'allenatore. Anita, divertendosi con le amiche nella suite, ha scherzosamente riportato alcuni apprezzamenti sui ballerini, pensando che Alessio potesse provare un briciolo di gelosia. Tuttavia, Alessio, in sauna, ha chiarito con Paolo di non essere geloso, ma di preferire una maggiore fiducia tra loro, senza coinvolgere gli altri concorrenti. La situazione ha portato ad una discussione tra Anita e Alessio, dove il ragazzo ha espresso il suo disappunto per il comportamento della ragazza, che non ha gradito. Nonostante Anita abbia cercato di chiarire la situazione, Alessio ha preferito evitare una prolungata discussione per non compromettere il loro rapporto. Nel frattempo, a sorpresa, arrivano degli aerei con messaggi di sostegno per vari inquilini della casa. Per Paolo e Letizia, un dolce messaggio da parte dei loro fan, il cui sostegno è stato fondamentale per loro. La coppia accoglie il gesto con gioia e gratitudine, consapevole del supporto che ricevono. Anche Sergio e Greta ricevono un messaggio di affetto dai loro sostenitori, che li esortano a vivere pienamente il loro legame. L'emozione tra i due inquilini è palpabile, e il gesto contribuisce a rafforzare ulteriormente il loro rapporto. Per Perla, invece, arriva un messaggio di sostegno e congratulazioni per il suo percorso all'interno del reality. La ragazza è visibilmente commossa e grata per l'affetto ricevuto dai suoi fan, che le danno la forza di andare avanti. Infine, anche Anita e Alessio ricevono un messaggio speciale da parte dei loro sostenitori, che li esortano a vivere il loro rapporto senza troppe preoccupazioni esterne. Il gesto riempie entrambi di gioia e gratitudine, consolidando il legame tra di loro. Le sorprese continuano con un nuovo e sorprendente striscione per Sergio e Greta, che sottolinea ancora una volta il forte legame che li unisce. Il gesto viene accolto con entusiasmo da entrambi, che condividono un momento di gioia e sentimento insieme agli altri inquilini. Perla, a sua volta, è la destinataria di un messaggio molto speciale dai suoi fan, che la congratulano per il suo percorso e le mostrano tutto il loro sostegno. La ragazza, visibilmente emozionata, ringrazia i suoi sostenitori con il cuore colmo di gratitudine. L'atmosfera in casa diventa ancora più poetica con un secondo aereo che porta un messaggio di affetto per Beatrice, Rosie e Sergio. I tre inquilini sono sorpresi e commossi dal gesto dei loro sostenitori, che li esortano a essere se stessi e a mettere il cuore in ogni cosa che fanno. Infine, la mattina viene rallegrata da un altro messaggio di affetto per Greta, che viene accolto con gioia e gratitudine da parte della ragazza e dei suoi compagni d'avventura. Tra abbracci e ringraziamenti, l'emozione in casa è palpabile mentre i concorrenti condividono il loro amore per i loro fan. Lascia un commento alla fine del video e seguici per gli aggiornamenti. Grazie per essere stati con noi. A presto con un nuovo video. Ci vediamo al prossimo Gossip.